I decessi odierni registrano 17 vittime per coronavirus, età media 79 anni. Il più giovane aveva 46 anni ed era residente a Recanati, mentre il più anziano aveva 96 anni di Colli al Metauro. Il totale aumenta a 669 decessi dall'inizio della pandemia dal virus, 6 le vittime extra-regione. Nelle ultime 24 ore i laboratori marchigiani hanno eseguito 913 tamponi, numero record in un giorno dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, riscontrando 149 nuovi casi di positività. Lo comunica il Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie. Con questi nuovi contagi il bilancio delle persone e risultate positive al Covid-19 nelle Marche sale a 4.859 su complessivi 17.532 test. Salgano i dimessi e guariti a 645 pazienti. I ricoveri in terapia intensiva risultano 133. In area semi-intensiva 275, nei reparti non intensivi 495, indegenze post-critiche 204. I casi di isolamento domiciliare sono 2.455, mentre i casi di contatti in isolamento in casa con positivo contano 7.906. Di questi 4.791 sono asintomatici e 3.115 presentano sintomi. Aumentano a 1.116 gli operatori sanitari isolati.